Allora ragazzi eccoci qua, video post Bologna contro il nulla perché la Fiorentina stasera è stata completamente annientata, annullata sotto tutti i punti di vista su idee di gioco, su organizzazione, sul movimento palla, sul movimento senza palla, su tutto, su tutto. Stasera il Bologna, e lo dico in maniera anche molto netta e concreta, ha meritato, ha strameritato di vincere contro di noi e stramerita la posizione di classifica che sta occupando, quindi sicuramente mi prenderò degli insulti sui commenti, ma io faccio veramente i complimenti al Bologna, faccio i complimenti a chi lavora per il Bologna, a chi sta dietro le quinte, costruisce una squadra e sa parlare di calcio. E chi vuol capire questo commento lo capisca. Prima di tutto vi invito non solo a iscrivervi a questo canale, ma domani mattina sarò ospite a C'è Polemica, programma che va in onda su Radio Firenze Viola, lo raggiungete tramite l'app, tramite il web, il browser. Mi raccomando ragazzi domani mattina dalle 9 alle 10 c'è Dario che conduce C'è Polemica e io sarò ospite insieme ovviamente ad altre persone nel parlare di questo post partita. Quindi parleremo ovviamente della partita con il Bologna e del perché la Fiorentina ne esce così sconfitta ma ridimensionata, cioè alla grande ridimensionata, perché un conto è perdere 4 minuti di foglia con le ecce, regalare un tempo. Ma stasera siamo stati ridimensionati dal Bologna e faccio i complimenti, tanto parte la radio in macchina, faccio i complimenti al Bologna. Nella radio vuol sentire che siamo stati ridimensionati, pensate voi. Comunque, iscrivetevi, i like se avete piacere di lasciare, di far crescere questo canale di Mister Viola, Instagram e Facebook vi lascio qua sotto il link in descrizione, come anche il link degli amici di Space Viola. Mi raccomando, condividete questo video con tutti i tifosi Viola, ma mi raccomando condividete la voce, quindi questo video in generale, per domani mattina. Vi aspetto mentre vi state lavando i denti, mentre vi state preparando per andare a scuola, per andare al lavoro, se siete il vostro giorno off, o se volete stare soltanto a letto in panciolle a pensare ai che devo fare domani. Nel frattempo, dalle 9 alle 10, ascoltate, c'è polemica. Va buono? Ci si vede domani mattina, ci si sente domani mattina. Detto questo, stasera l'italiano, secondo me, l'ha sbagliata, la grande, ha detto che hanno giocato proprio come l'avevano preparata. Allora mi domanda e dico come si preparano le partite, perché ha spiegato tutti i suoi ragionamenti. Allora, ha messo Bonaventura al posto di Beltran, secondo me primo errore. Seconda, ha giocato Arthur perché volevamo andare a prendere il possesso palla e giocare palla a terra, e quindi ci lasciavano il possesso palla. Ma ci lasciavano il possesso palla? Cerchiamo di capirlo. Cioè, Bologna ti lascia il possesso palla? Non credo proprio. Infatti il Bologna ha giocato ad altissimi livelli. Tu hai provato a giocare ad altissimi livelli, ma se mi giochi con Bonaventura ed Arthur, che non ti velocizzano la manovra, questo è un po' ma sicuro, te la migliorano sotto il punto di vista tecnico-tattico se hanno gli spazi e i tempi per poterlo fare, ma se l'avversario ripressa vanno in difficoltà. Soprattutto quando tu stesso mi confermi che hai un Arthur al 40%, e allora perché me lo metti in campo? Non ha senso. Cioè, secondo me l'italiano doveva riproporre la stessa formazione vista con il Frosinone, ma non perché col Frosinone si è vinto 5-1, ci mancherebbe altro, ma perché secondo me con due mediani, poi dicono che Duncan avesse un problema, ma poi Duncan è entrato, quindi anche qui voglio capire bene tutte queste informazioni, problemi. Cioè, con due mediani, Beltram dietro a Belotti, tu il centrocampo lo devi scavalcare stasera, ma puoi tu andare a Bologna contro un Bologna lanciatissimo, che gioca bene in palla a terra, che si muovono benissimo. Tra l'altro sono arrivati i complimenti anche dai giocatori stessi della Frentina, hanno fatto i complimenti al Bologna, quindi per farvi capire che si è preso una lezione di calcio, ogni tanto fa bene, e ci ha ridimensionato, ci ha riportato a terra. Ora, non è che, l'avevo detto io dopo il 5-1, non è che sempre dalle stelle alle stelle in continuazione, però si sperava che quello con il Frosinone non fosse un fuoco di paglia, e invece a quanto pare, ragazzi, è un fuoco di paglia, perché in questo momento la Frentina, per come è messa in campo e per come sta giocando, non merita di lottare per le parti alte della classifica. Poi ovviamente mi direte, ma successo solo 5 punti, si può recuperare, era un turno infrasettimanale, beh, comunque il Bologna ti ha preso 3 punti ora, cioè ne aveva 2, adesso ce ne ha 5, quindi è difficile anche andare a agganciare il Bologna, agganciare l'Atalanta, che in questo momento stanno viaggiando su ritmi fantastici e tu questi ritmi non li stai tenendo minimamente. Però è anche vero che sentiremo dire che la Frentina ha altre possibilità per arrivare in Europa il prossimo anno, no? Può sempre arrivare in finale di Coppa Italia e vincerla, può sempre arrivare in finale di Conference League e vincerla, quindi, no? Tanto i sistemi per farci star buoni li trovano sempre. Io faccio i complimenti al Bologna e qui veramente, ragazzi, perché la Frentina, a livello storico, scusate, ma è tardi anche io con l'italiano, ora a quest'ora, è sempre stata davanti al Bologna e adesso invece il Bologna da qualche tempo ci è superiore, ma in tante cose. Soprattutto era il fatto che il Bologna ha un montengaggi molto inferiore al nostro, non ha fatto acquisti esorbitanti rispetto a noi che abbiamo paventato 12, 15, 16 milioni, però è sopra di noi e gioca meglio a pallone, con un Tiago Motta che sa mettere bene in campo la formazione e probabilmente conosce anche bene i suoi giocatori. Tra l'altro all'inizio dell'anno Tiago Motta sbottò sul mercato, si fece sentire, poi da lì ovviamente ci sono degli addetti a lavori che sanno parlare di calcio, chi fa il calcio mercato a Bologna lo sa fare e infatti gli ha portato una squadra che sa girare bene. Poi andiamo a parlare dei singoli, male Jack Buonaventura, male Arthur, male Mandragora, male Ranieri, male Milenkovic, male Cajode, male Malissimo Biraghi, male Belotti perché è lasciato solo, tanta corsa, tante sportellate ma ha lasciato solo. Iconè inizialmente sembrava il più pimpante e poi anche lui è ritornato ad essere il solito Iconè, Nico González è uno che cerca di muoversi ma è lasciato a se stesso, Biraghi malissimo perché stare a 20 metri da Orsolini già a livello di velocità non lo ricuperi se ti scatta perché non li stai dietro, in più gli dai anche 20 metri di vantaggio, poi l'italiano dice che eravamo messi in campo e quindi Biraghi era costretto a stringere, allora vuol dire non averla preparata alla perfezione, anche perché, ripeto, l'hai voluta mettere sullo stesso piano del gioco, come se Fiorentina e Bologna si equivalessero. Ora, io stamattina ero fiducioso in quanto mi auguro che il 5 a 1 e con un'idea di formazione di gioco l'italiano possa andare a Bologna e provare a giocarla, però bisogna essere anche un attimino furbi, un pochino alto e un pochino più di astuzia, cioè metterla sullo stesso piano di gioco, cioè concedere palla a terra contro il Bologna in questo momento è un suicidio, soprattutto visto che hai un'arto del 40% e hai un momento in cui non è che fai girare benissimo a sta palla. Quindi secondo me se andavi a giocare sempre con il 4-2-3-1, ma andavi a scavalcare il centrocampo, quindi verticalizzavi, crossavi, proprio lo saltavi, dovevi andare sul fondo, dovevi andare a cercare sempre gli esterni e buttarla nel mezzo. Fine. Secondo me devi metterla così, anzi concedere il possesso palla all'avversario e aspettare un suo errore. Il problema è che sei andato a prenderlo trammente tanto alto che poi è stato il Bologna a infinocchiarti, perché il gol del 2-0 è palese palese. Hai palla, perdi palla, ripartenza, borda gol. Tra l'altro un'altra volta difesa schierata, cioè quindi capite bene che ci sono dei limiti, ci sono dei limiti enormi. Per il resto non la voglio far lunga ragazzi, perché stasera c'è da stare zitti, si piglia due gol, si buscano due gol, si vede il Bologna a più 5, si fa complimenti al Bologna e si dice a Rocco Commisso che probabilmente a fare il mercato quest'estate ci deve essere una persona che sappia fare il suo lavoro, perché è palese, Atalanta, Bologna, queste squadre fanno mercato come va fatto, come Dio comanda, come si suol dire. Ci hanno messo persone che stanno a parlare di calcio. E stasera Tiago Motta ha dato una grande lezione a Vincenzo Italiano, il Bologna ha dato una grande lezione alla Fiorentina e la proprietà del Bologna, intesa come società e organigramma, secondo me ha dato una grande lezione di organizzazione calcistica all'entourage della Fiorentina. Tutto qua. Poi per il resto ci si vede domani mattina, c'è polemica su Radio Firenze di Ola. Ciao! E come sempre ragazzi, perché la passione e l'amore in questa giornata di San Valentino, che c'hanno due schiaffi, si è preso un due di picche, però c'è sempre. Forza a gola!